Ricordiamolo, siamo qui con il Presidente Musumeci, oggi entra in vigore il nuovo codice della strada, vi dico solo due o tre novità che a mio parere sono significative, sono inasprite le multe per il cellulare all'arguida, soprattutto posso dire che sono contenta che sia molto inasprita la multa per chi parcheggia sul posteggio disabili. Vi confesso che io non sono una guidatrice provetta, ma una cosa che non fare mai nella vita è mettere la macchina sul parcheggio disabili. Quindi sappiate che se lo fate la multa era di 168 euro, ora è di 672 euro, quindi fate quello che vi pare, sappiate che è il rischio che correte con sei punti decurtati dalla patente. Ah, è un'altra cosa molto civile che all'estero si fa tanto, quando si devono far attraversare i pedoni sulle strisce pedonali, la precedenza non va data solo al pedone che sta attraversando, ma anche al pedone che sta fermo alle strisce. All'estero ci si ferma, lo si vede, uno si ferma e lo fa passare. Non è che la signora deve rischiare di essere arrotata, perché è anche una cosa di praticità, vi dire strisce e ti fermi comunque, se poi non c'è il pedone vai avanti, se no lo fai passare. Giusto, Presidente? Perfettamente d'accordo. Capiamo che regoli ci sono per i monopattini. Beh, intanto, Serena, come diceva la vigilesa nel servizio, di certo non si può andare in treno, non si poteva prima e non si può adesso. Giusto, Andrea? Poi che altre novità sono state introdotte? Sono state introdotte novità dal punto di vista della velocità, il limite passa da 25 a 20 all'ora per quanto riguarda la velocità normale, mentre nell'area pedonale rimane a 6 km all'ora. Rimane l'obbligo di bretta e le catarifrangenti in condizioni di scarsa visibilità e di notte. viene gestita in maniera più chiara la parte di parcheggio, quindi con determinate aree in cui effettivamente è vietato parcheggiare ed infine vengono aumentate le caratteristiche di sicurezza sui mezzi. Oltre alle frecce, al freno che si illumina in caso di frenata e al doppio freno sul manubrio, vi sono anche altre caratteristiche per quanto riguarda poi la sicurezza complessiva del mezzo. Ecco, e rispetto al nuovo codice della strada, voi come categoria diciamo come vi ponete? Sicuramente è un chiaro indirizzo questo. Si passa da una sperimentazione che si rinnovava pochi mesi per pochi mesi a una normativa finalmente unica, univoca e certa. Questo permette gli investimenti che abbiamo citato prima. Quindi come aziende possiamo dire che quantomeno abbiamo un contesto chiaro, normativamente certo, e quindi è esattamente il punto per cui... E sul marciapiede? No, né prima né adesso, diciamolo Serena. Grazie, grazie davvero, grazie anche per averci fatto vedere un pezzetto di Milano perché poi il manopattino, come un po' tutte le novità, Presidente, è anche una cosa un po' divisiva, siccome cambia comunque anche la nostra quotidianità perché c'è chi li trova detestabili, mi tagliano la strada, sono pericolosi e chi invece dice è un modo per una viabilità più efficiente e anche un modo ecologico. Dei da che parte sta? Naturalmente è un mezzo ecologico perché non consuma carburante ma bisogna fissare le regole e farle rispettare. A proposito di codice della strada e quindi parliamo anche del tema di cui lei ha fatto cenno, credo che serva una maggiore attenzione alla educazione civica nelle scuole perché è quello il momento in cui il ragazzo si forma e forma la coscienza della responsabilità. Se si dedicasse un'ora in più durante i programmi didattici al codice della strada, a come comportarsi, è lo stesso ragazzo nelle scuole medie inferiori che dopo qualche anno può prendere il patentino per le due ruote e quindi è chiaro che l'impatto è immediato ed è il destinatario primo. Io spero davvero che si possa riservare maggiore attenzione. Senta, ma è un bel po' che non la vedi in uno studio televisivo, giusto? Da quanto tempo mancava da uno studio? Io devo dire che non sono bravo a sollecitare o a chiedere di essere invitato, ma quando lo fate difficilmente... No, ma è in uno studio, dentro uno studio? Mi dicevano che è tanto tempo che non si è mosso dalla sua Sicilia. Qualche mese, qualche mese. Del resto è difficile in questo momento lasciare la Sicilia perché è come se si avesse la sensazione che restando sul posto i problemi possano risolversi con più facilità. È solo una sensazione per carità, però io la vivo. Ma poi oggi ha visto Salvini. Stamattina certo. So che avete parlato di questioni che riguardano un impianto industriale. Sì, abbiamo parlato dei temi che riguardano i ministri leghisti, più tardi vedrò alcuni parlamentari di Forza Italia, girerò tutti. Lui è un governatore del centro-destra, lo ricordo. Sì, 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 ma per me nel momento in cui si tratta di difendere gli interessi legittimi della mia terra, io parlo con chiunque e non guardo alla geografia politica. Senta, ma è vero perché dice Repubblica che avete parlato anche di politica e che lei ha chiesto a Salvini di ricandidarla anche per i prossimi cinque anni. No, non abbiamo parlato di questo. Salvini mi ha chiesto cosa vuoi fare per i prossimi cinque anni. Io ho risposto. In questo momento mi interessa lavorare nell'ultimo anno per non lasciare nulla in sospeso. Il tema della mia ricandidatura eventuale si porrà nel prossimo anno, penso in estate. Per quando si vota? Si vota ai primi di novembre. A Palermo si vota a maggio-giugno. Però a gennaio-febbraio dovete cominciare a pensarci, insomma ci siamo quasi. Questo è un tema che riguarderà i partiti. Se io mi facessi distrarre... Perché mi dice sempre Repubblica che Salvini le avrebbe detto che la Lega vuole indicare il prossimo candidato governatore di centrodestra, quindi non sarebbe lei. Guardi Salvini, la Repubblica non c'era. Era assolutamente assente. Quindi capisco il mestiere, ne conosco anche le insidie, però nulla di tutto questo. Noi siamo qui a fargli una domanda e gliela faccio perché così smentisce una notizia o la conferma. Ma è giusto e io con grande sincerità le rispondo. Abbiamo parlato, mi ha chiesto cosa vuoi fare nei prossimi cinque anni. E lei non ha ancora deciso? Perché prima credo che sia importante completare il lavoro iniziato. Sarebbe un atto di presunzione, secondo me, dire in maniera perentoria mi ricandido. Voglio restare. Anche perché dipende dalla coalizione, naturalmente. Senta, col Covid come va? Perché mi sembra che non siate a rischio di tornare in zona gialla. So che però ci sono delle zone, soprattutto nell'Asl di Messina, in cui ci sono paesi sotto il 70% di vaccinati e che l'Asl non esclude dei lockdown natalizi, cioè? Intanto è bene che non ci sia un imminente pericolo per cambiare colore. Abbiamo già sofferto abbastanza. In una graduatoria nazionale crediamo di essere forse al quarto posto. Siamo a 500 contagi, aggiornamento di ieri. È chiaro che stiamo lavorando per recuperare la diffidenza, di cui abbiamo tante volte parlato anche con lei, la diffidenza dei mesi scorsi in provincia di Messina. C'è un ottimo rapporto, si è instaurato da qualche mese e sono felice, fra ASP e medici di famiglia. Stiamo lavorando con grande impegno, soprattutto per recuperare quelle aree, come lei diceva, dove ancora per ragioni non del tutto chiare la diffidenza, la riottosità nei confronti del vaccino permane. Ma abbiamo dovuto faticare tanto per convincere gli indecisi, perché gli irriducibili non li convinceremo mai. Però quelli saranno un 10% massimo. Dice il Presidente Mattarella che le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e lo combattono. D'accordo? Concordo perfettamente. Io credo che il dissenso vada garantito in una società democratica. L'importante è che non venga espresso ricorrendo alla violenza e che non recchi in documento a chi invece ritiene legittimamente di non aderire al dissenso. E le nuove disposizioni del Ministero dell'Interno con i prefetti che appunto pongono dei limiti alle manifestazioni nelle vie dello shopping, nelle zone più frequentate, la trovano d'accordo? Mi pare assolutamente giusto. Basta ascoltare quello che dicono i commercianti che hanno già pagato tantissimo durante la chiusura totale e mi pare giusto manifestare ma se lo si fa in un posto dove non si rega un documento al commerciante io credo che valga lo stesso. L'importante è poter protestare e poter far valere le proprie ragioni. Intanto Speranza dice dal 1 dicembre terza dose a 40 sessantenni. Sappiatelo, questa è davvero una notizia. Nel frattempo sappiamo che il Covid è pericoloso non solo per chi lo prende ma anche perché rallenta gli interventi chirurgici normali perché se i medici sono impegnati a curare il Covid devono essere rimandati alcuni interventi. Guardate questo servizio di Daniele Grisafi e Anna Zanconato. È da dicembre 2019 che sto aspettando un intervento alla Colecisti. Una persona che sta male e bisogna più ora. In Italia storie come quelle di Lucia Antonietta sono tantissime. Interventi sospesi, liste d'attesa infinite e visite rimandate. Insomma, malati che anche dopo l'emergenza Covid non riescono a curarsi come dovrebbero. Da gennaio a marzo non ho ricevuto nessuna chiamata. Poi a marzo è scoppiata la pandemia e quindi l'ospedale è diventato ospedale Covid. A tutt'oggi non è tornato funzionante. Ho provato a prenotare un'attac per vedere lo stato dei calcoli alla Colecisti ma mi hanno dato un appuntamento tra sei mesi. La pandemia ha mandato al collasso un sistema sanitario che già non brillava per qualità ed efficienza. E ora le liste d'attesa già piene si sono allungate a dismisura. Sono stati rinviati circa 400.000 interventi di chirurgia generale e se conteggiamo anche le chirurgie specialistiche oltre un milione di interventi in tutta Italia. Attualmente i tempi di attesa si sono più o meno raddoppiati. Questo ha provocato una riduzione del trattamento di pazienti complicati e con questo si associerà probabilmente ad una riduzione della vita media. Un quadro allarmante anche per l'elevato numero di esami, visite e screening rinviati. La mamma è stata operata da poco dopo un anno e mezzo di lista d'attesa per fare un intervento sulla colonna ma lei deambula ancora male quindi abbiamo fatto altri accertamenti e anche le liste di attesa per delle visite specifiche sono lunghissime. Non ti danno udienza, non ti danno udienza. E allora spesso l'unica alternativa è quella di rivolgersi ai privati. Facendo la visita a pagamento c'è posto. Se invece l'avessi chiesta al CUP non c'era posto. Con la stessa dottoressa. Con la stessa dottoressa. Io prendo 650 euro di pensione. Non è possibile. Se c'è storia la caglietta mi torna a mano perché se no. Adesso si tratta di organizzare. Gli ospedali hanno bisogno quindi di assunzioni per il personale, di poter lavorare più giorni, quindi anche il sabato e la domenica per aumentare l'utilizzo delle sale operatori e soprattutto c'è bisogno di prestazioni aggiuntive per il personale che ha già lavorato e che è stanco. Tre domande veloci, Presidente. Allora, Salvini dice ora, se vietiamo le manifestazioni perché non siamo in grado di far rispettare le regole, allora il Ministro dell'Interno non sa fare il suo lavoro. Si riferisce ovviamente a quello di cui abbiamo appena parlato. Ha ragione Salvini? Io credo che invece lo Stato ponga le regole in maniera assolutamente chiara. Veda quando la degenerazione provoca quello che ha provocato, lo Stato deve apparire più forte di chi provoca disordini e violenze. È un principio dal quale non mi sono mai allontanato. Secondo me il Ministro Lamorgese deve essere più decisa. Finora ha mostrato molta incertezza. Capisco per tutelare e difendere alcuni equilibri, ma quando dalla piazza emerge la voglia di dover vivere serenamente tutti i fini di settimana senza per questo impedire a chi lo rivendica il diritto di poter protestare, non può il Ministro non rendersene l'accordo. Quindi in realtà lei dice Lamorgese che questo è stato un passo avanti, non un passo indietro come dice Salvini. No, è stato un passo avanti ma non basta. Ma non basta, quindi lei chiede ulteriori strette in realtà. Servono, servono. Basta ascoltare i sindaci che sono i destinatari degli interessi dei cittadini e rendersi conto quanto sia allarmante il momento. Due domande che riguardano tutta Italia ma anche la sua regione. La prima riguarda il reddito di cittadinanza che si sta per modificare. Oggi dice ad esempio Brunetta, il Ministro Brunetta al Corriere della Sera che insomma ci sono persone, lo ribadisce, l'ha detto anche il Ministro Orlando, una parte di quelle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza non sono proprio occupabili perché appunto non possono lavorare. Non sono idonei a lavoro. Secondo lei va abolito o deve restare modificandolo come si pensa anche facendo decadere il diritto a percepirlo dopo un rifiuto di un... Le porto un esempio, quello che più conosco, della mia regione, della Sicilia. 556 mila beneficiari, soltanto l'1% ha potuto o ha voluto trovare il lavoro. Questo le dà l'idea come impegnando decine e decine di miliardi lo strumento sia assolutamente inadeguato. Ma quindi va abolito secondo lei? Una attenzione a chi non ce la fa. Io poco fa mi sono commosso quando ho visto la vecchietta che diceva ho 250 euro di pensione, come faccio ad andare in una struttura privata? Io vivo in una terra dove la percentuale della povertà è del 46%. Quindi dobbiamo evitare quei casi dove non si può vivere e dove non c'è abilità per poter trovare un mestiere, un lavoro. È chiaro che deve intervenire lo Stato, ma non può diventare lo strumento per i furbi. Lei pensi che in Sicilia le aziende agricole non trovano più che raccolgano le olive? In estate non si trova più chi fa la vendemmia. Le lance, l'associazione costruttore, si lamenta perché non trova più operatori di McHen. Forse potrebbero anche pagarli un po' di più. No, 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 li pagano secondo contratto. Un'impresa naturalmente non si espone. Non è l'impresa di un generale. Forse anche magari c'è anche questo tema. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E lì bisogna essere inesorabili. Però se uno non lavora e guadagna 700 euro al mese e gli arrivano direttamente sul conto corrente, è difficile poi fare il giornaliero. Quindi dipendesse da lei quindi lo abolirebbe? No, questo meccanismo senz'altro non serve. Bisogna educare la gente al lavoro. Questo mi sembra essenziale. Questo è uno strumento diseducativo. Ma lo dicono i numeri, non lo dico io. Ma al tempo stesso guardare con maggiore attenzione fra le pieghe delle realtà sociali. perché ci sono famiglie che vivono in disarmanti promiscuità e davvero non trovano il denaro neanche per pagare la bolletta della luce. Grazie Presidente Musumeci.